Buongiorno a tutti e grazie per l'invito in questo contesto così prestigioso e anche così aperto al dibattito, visto l'approccio con cui è stato organizzato l'evento. A me aspetta un compito difficile, però per fortuna non così difficile come invece commentare l'articolo 13, di cui io non mi occuperò e lascio volentieri agli altri relatori. L'articolo 13 è stato l'ultimo che è stato accennato nell'intervento precedente, che è stato utilissimo perché mi permette appunto di poter già andare ad un livello di dettaglio maggiore, perché è già stata un'introduzione un po' sui temi caldi e cardine di questa direttiva. Però ecco, l'articolo 13 è quello che davvero ha creato più dibattito e rischia davvero di essere, se non applicato correttamente, non interpretato correttamente, di essere una bomba a orologeria su tutto ciò che adesso abbiamo su internet. Cioè il togliere, diciamo, il mettere in secondo piano il principio della non responsabilità del service provider rischia davvero che alcuni service provider dicano che non vogliono stare a queste regole sostanzialmente e sono liberissimi di farlo, essendo soggetti privati dicono ok, noi a queste regole non ce la sentiamo di fornire i servizi che da 15 anni, 20 anni forniamo. Questo è il rischio concreto. Poi bisogna vedere di fatto come verrà interpretato questo articolo 13 soprattutto dagli legislatori locali perché, come ben capirete, insomma, per chi ha un po' di nozioni giuridiche stiamo parlando di una direttiva, non stiamo parlando di un regolamento come invece è stato fatto con il famoso GDPR che ci ha accompagnato in questi mesi con le varie email che ci comunicavano, l'avvento di una nuova privacy nel contesto europeo. Questa è una direttiva, quindi bisognerà vedere come i vari legislatori decideranno di applicarla, interpretarla creando appunto una serie di problemi poi di non omogeneità delle legislazioni in ambito europeo però questo è il mondo in cui viviamo, l'Unione Europea è un organismo sovranazionale quindi è l'eccezione quella del regolamento sulla privacy, la regola è proprio quella di utilizzare lo strumento della direttiva e lasciare ancora un margine di potere legislativo agli stati membri e mi sembra anche abbastanza, come dire, corretto. Però appunto, visto il titolo del mio intervento cioè questa è una premessa appunto per inquadrare meglio il titolo del mio intervento perché giustamente ci sono due aggettivi possibili e potenziali che sono poi tra l'altro abbastanza sinonimi il titolo mi è stato proposto dagli organizzatori, io l'ho accettato alla sfida però in questi giorni quando mi sono messo a fare le slide avrei voluto mettere ancora più grosso questi possibili potenziali perché effettivamente io non ho la sfera di cristal e visto il livello a cui siamo arrivati oggi noi abbiamo solo il testo della direttiva il quale io non credo che cambi, prima ne discutevo anche con Luca Martinelli però non credo che cambi, però le mie slide sono basate sul testo della direttiva che abbiamo oggi sapere come i vari legislatori di tutti gli stati membri dell'Unione Europea poi interpreteranno questi concetti che sono davvero molto nuovi e molto arzigogolati e articolati sarà un bel divertimento quindi questo per dire che mi è difficile dare una prospettiva su quali saranno le ripercursioni della nuova direttiva nel panorama normativo italiano se non appunto andando per ipotesi e tantomeno appunto visto che la seconda parte discende e dipende logicamente dalla prima anche indicare quali sono gli effetti in ambito accademico e scientifico però vabbè ho fatto una panoramica partendo dalle norme su quali sono i principi che andranno nella prima parte a richiedere una modifica sostanziale della legge italiana sul diritto d'autore e nella seconda parte invece quella legata al mondo accademico e scientifico che credo in questa sede interesse di più sono andato a individuare quali sono i concetti nuovi introdotti relativi più strettamente al mondo accademico e scientifico per questo ho lasciato fuori l'aspetto dell'articolo 13 che tocca più i service provider che forniscono contenuti di altro tipo il principale service provider colpito è YouTube, lo sappiamo e quindi vabbè è vero che YouTube ha anche una funzione di diffusione di materiale accademico e scientifico però ecco io ho preferito anche per una questione di mia salute mentale lasciar perdere l'aspetto dell'articolo 13 perché davvero non se ne esce vivi altra annotazione nulla, cioè altra annotazione è il discorso della quanto verrà cambiato della legge sul diritto d'autore questo non si sa so, quello che posso dirvi è che nella storia, noi abbiamo ancora la legge che è del 1941 la nostra legge, la legge 633 del 41 è quella che ci accompagna che mi accompagna in tutti i corsi, le lezioni che cito ancora ogni volta che faccio vedere la legge chi non è del settore rimane sconvolto nel vedere che c'è una legge del 41 che si occupa del copyright che è una materia come vedete strettamente legata a questioni frontiera e tecnologiche ovviamente non è la stessa uguale a se stessa la 41 è stata più volte modificata quindi non è lì il problema è che a furia di togliere un pezzo aggiungerne uno, un bis, un ter si comincia in effetti a perdere un po' il senso e se questa direttiva richiederà degli interventi abbastanza cospicui e sostanziali forse sarà il caso di non aggiungere pezzi o togliere pezzi a questa e davvero riscriverla da zero come è stato fatto una decina di anni fa con la legge sui brevetti e la legge sui marchi le leggi sui marchi e brevetti erano coeve più o meno della legge sul diritto d'autore negli anni 39, 40, 41 che hanno anche, come dire ci richiamano anche a un periodo storico nostro abbastanza interessante sono state riscritte completamente nel cosiddetto codice proprietà industriale a metà degli anni 2000 la legge sul diritto d'autore è competenza di altro ministero e di altri commissioni parlamentari perché la competenza è cultura ministero beni culturali e c'è sempre stata una certa ritrosia a toccarla anche quando si è trattato di riformare la CIA l'anno scorso giusto si cambiano quelle tre parole minimo sindacale per poter ottenere l'effetto e basta le grandi riforme della nostra legge sul diritto d'autore sono arrivate negli anni 91, 92 e 96 con l'introduzione delle norme sulla tutela del software e delle banche dati e se andate a vedere gli articoli della legge italiana su quelle materie sono dei copy and call a pari pari della direttiva soprattutto quella sulle banche dati cioè proprio articoli interamente copiati che può essere anche una scelta legittima è un po' pilatesca perché vuol dire che il legislatore italiano dice ma essendo una materia tecnica io me ne lavo le mani copio e incollo la direttiva così non mi può dire nulla a nessuno è che con questa direttiva secondo me non si riesce a fare perché adesso vi farò vedere delle norme fatte con eccezioni cioè nuovi diritti eccezione a questi nuovi diritti e eccezione all'eccezione davvero è davvero complicato quindi andiamo adesso nel merito questi sono i miei riferimenti in rete vi li segnalo soprattutto l'ultimo slide share e anche il blog perché lì troverete le slide cioè chi vuole vedere anzi sono già online l'ho messa ieri sera in hotel quindi chi magari ha difficoltà a leggerle da là le può va sul mio slide share l'ultimo file caricato è esattamente quello che state vedendo poi avrei piacere se qualcuno vuole anche fare foto alle slide a me o filmati quello che volete vi do già liberatoria e potete anche taggarmi sui vari social facebook la pagina non è il mio profilo privato se no non si confonde con altre cose e twitter sono i due canali principali in cui trovate un po' le mie attività quindi sentitevi liberi di pubblicare e taggarmi volentieri questi sono li faccio vedere velocemente è già stato citato il libro fare open access che è dell'anno scorso e poi il mio capire il copyright che è un po' un manualetto introduttivo sul diritto d'autore utilizzato per i miei corsi che ovviamente sarà ecco il libro che io sarò obbligato a riscrivere nel caso di fare una terza edizione nel caso questa direttiva comportasse appunto una cospicua riscrittura della legge sul diritto d'autore allora parte prima possibili ripercussioni sul panorama normativo italiano vediamo innanzitutto vengono introdotti nuove definizioni nuovi concetti che nel nostro diritto non vengono nemmeno citati quindi né nelle norme né in sentenze insomma ad esempio questo vado a prendere dalla direttiva ultimo testo disponibile che ha noto sempre preciso sempre che potrebbe in teoria ancora cambiare però la vedo molto difficile comunque ci sono un po' di definizioni visto che c'è una cospicua parte di eccezioni che sono rivolte agli organismi di ricerca giustamente bisogna definire che cos'è un organismo di ricerca da un punto di vista legislativo ai sensi di questa legge e uno ad esempio la prima definizione è proprio questa un'università compresa le relative biblioteche questa l'ho sottolineata perché è stata introdotta con l'ultimo giro di proposte di modifica e credo che in un contesto come questo open access sia particolarmente utile sottolinearlo un'università compresa le relative biblioteche un istituto di ricerca qualsiasi altra organizzazione il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività di ricerca scientifica e fornire servizi didattici attenzione con queste due condizioni a senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli utili nella propria attività di ricerca scientifica b con una finalità di interesse pubblico riconosciuto da uno stato membro attenzione che c'è un o non un e e quindi questa piccola questa singola lettera questa congiunzione ha un valore ha un peso dal punto di vista giuridico in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati da ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinata su terroorganismo ecco io già qua comincio a andare un po' a perdere un po' il filo su cosa mi stanno dicendo perché già le prime due no già la prima la A mi viene da pensare ma un'università Bocconi fa rientra non rientra e poi devo anche pensare al modo che non sia possibile l'accesso quindi è in prospettiva ok partendo dal presupposto che il diritto non è una scienza perfetta quindi comunque non può prevedere ogni possibile utilizzo ogni possibile conseguenza però insomma le norme andrebbero scritte con un po' più di certezza qua vabbè prima qualcuno ci ha parlato del test in data mining e in data mining li abbiamo già un po' definiti però così è come la definisce come definisce questa attività la direttiva qualsiasi tecnica di analisi automatizzata delle opere o di altro materiale in formato digitale avendo il scopo di generare informazioni comprese ma non solo modelli tendenze e correlazioni questa mi sembra utile e abbastanza diciamo non foriera di equivoci istituto di tutela del patrimonio culturale questo interessa perché chi lavora negli archivi prima qualcuno mi ha già avvicinato chiedendo vabbè chiedendo informazioni diciamo relative alla digitalizzazione di documenti di manoscritti è uno dei temi che interessa l'attività di appunto bibliotecari archivista ma anche di servizi online che fanno questa attività mi viene in mente Wikimedia Commons e via dicendo però qua parla di istituto di tutela del patrimonio culturale ovvero definendolo come una biblioteca accessibile al pubblico un museo un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico sonoro ok quindi questo quando vedremo perché ci servono queste definizioni perché dopo avremo la parte con le eccezioni e si rivolgono a tutti questi soggetti quindi avere la definizione ci aiuta ecco prima qualcuno si chiedeva che cavolo sono queste pubblicazioni di carattere giornalistico la fissazione da parte degli editori dell'agenzia di stampa di un insieme di opere letterarie di carattere giornalistico che può includere anche che può includere anche altre opere o altro materiale che costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recanto un unico titolo quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico avente lo scopo di fornire informazioni su notizie o altri argomenti e pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto responsabilità editoriale il controllo di un prestatore di servizi io davvero grazie dammi un po' d'acqua questa parte sottolineata è stata aggiunta all'ultimo giro grazie perfetto è stata aggiunta all'ultimo giro di modifiche e dice che le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici quali le riviste scientifiche non rientrano nella presente definizione grazie per questa sottolineata già avevo fatto fatica a capire la definizione grazie per avermi aggiunto l'eccezione almeno però sappiamo che lasciamo fuori a questa definizione le riviste scientifiche vabbè opera fuori commercio questa è una novità nel senso che è stata sollevata la questione delle opere fuori commercio che avrebbero comunque diritto a essere ancora accessibili al pubblico e spesso non vengono non diventano reperibili perché? perché semplicemente l'editore non ne trova più conveniente la loro commercializzazione e questo succede con tutte le monografie che spesso si occupano di materie ci metto dentro anche i miei libri le mie pubblicazioni si occupano di materie talmente specifiche per cui una volta che hai esaurito la prima tiratura che era quella finanziata dal lente di ricerca o a volte dallo stesso autore o dal ricercatore stesso non hai più interesse a diffondere allora l'opera non viene più commercializzata però da un punto di vista scientifico ha ancora un interesse allora lì si pone sempre il dubbio ma allora non la posso più diffondere neanche attraverso il cosiddetto document delivery o altre forme di diffusione allora ci si è posto anche questo problema allora però se ci si pone il problema dobbiamo anche definire che cosa intendiamo davvero per opera fuori commercio ok questa definizione ha un'opera intera o altro materiale in qualsiasi versione o forma che non è più accessibile al pubblico in uno stato membro attraverso i canali commerciali tradizionali b un'opera o altro materiale che non sono mai stati in commercio in uno stato membro a meno che dalle circostanze del caso di specie non sia evidente che l'autore si sia opposto alla sua messa a disposizione del pubblico quindi dobbiamo cercare anche di fare un'attività di ricostruzione psicologica sul volere dell'autore perché vedete che a meno che nelle circostanze il caso di specie non sia evidente vabbè prestatore di servizi di condivisione contenuti online allora in realtà questa definizione io l'ho messa nelle slide visto che poi non mi occupo dell'articolo 13 ci interessa meno però no però c'è perché vedete che c'è la parte sottolineata perché comunque esclude i repertori di dati cioè allora si intende prestatore di servizi di condivisione di contenuti online cioè ripeto per collegarla dargli una faccia youtube o flicker per le foto un prestatore di servizi della società dell'informazione che persegue tra i vari scopi principali quello di memorizzare e dare pubblico accesso a quantità rilevanti di opere protette dal diritto d'autore o ad altro materiale protetto caricato dai suoi utenti che il servizio provvede a ottimizzare a promuovere a scopo di lucro lucro ovviamente di lui no chiaramente non degli utenti che caricano il contenuto le micro imprese e le piccole imprese e i servizi che io ho dovuto tagliare un pezzo perché vabbè si impazziva se no ci diceva le piccole imprese ha i sensi di cioè fa riferimento ad un'altra norma perché ovviamente anche lì il concetto di micro imprese e piccole imprese ad esempio nel caso italiano rispetto al caso tedesco è un po' diverso e i servizi che agiscono a fini non commerciali come l'enciclopedia online e i prestatori di servizi online in cui il contenuto è caricato con l'autorizzazione di tutti i tutoriali dei diritti interessati come i repertori didattici o scientifici non sono considerati i prestatori di servizi di condivisione dei contenuti online ai sensi della presenza di relativa questo pezzo qua è stato aggiunto con l'ultimo dibattito perché qualcuno giustamente dopo ce lo spiegherai meglio tu ha sollevato che quella norma lì rischiava di far saltare l'accesso a Wikipedia e continua ma lo so però hanno cercato per dimostrarvi come già a livello di definizioni qua siamo solamente all'articolo 2 cercano di fare una definizione con la sua eccezione ok i prestatori di servizi cloud per uso individuale che non forniscono un accesso diretto al pubblico a piattaforme di sviluppo di software open source anche qua dannogli un nome github e i mercati online la cui attività principale è la vendita al dettaglio di online di bene fisici le aste online quello che una volta era ebay non dovrebbero essere considerati non dovrebbero usiamo il condizionale perché già questo condizionale mi fa un terrore non dovrebbero essere considerati i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presenza direttiva il non dovrebbero è davvero per il linguaggio giuridico il linguaggio normativo io ho fatto l'esame col professor Conte filosofia del linguaggio normativo il condizionale è quanto di più terrificante perché boh non dovrebbero o non devono vabbè servizi della società all'informazione ok fa un riferimento ad un'altra norma servizi di referenziazione automatica questa io davvero non l'ho capita ho chiesto dei colleghi se qualcuno mi aiutava però servizi di referenziazione automatica delle immagini un servizio online che riproduce o mette a disposizione del pubblico a fini di indicizzazione referenziazione opere grafiche o artistiche o opere fotografiche raccolte con mezzi automatizzati tramite un servizio online di terzi io davvero con un aggregatore c'è un esempio vivente perché se no mi viene sempre a me viene sempre in mente Wikimedia a me viene sempre in mente Wikimedia Commons ma forse la sto facendo troppo facile perché boh anche il fatto che parli di opere artistiche voi sapete che ad esempio la nostra legge italiana non si parla mai se non per le opere di design non si parla mai di valore artistico ma sempre di carattere creativo che è ben diverso perché l'arte la si valuta spesso a posteriori la merda d'artista è arte ma non sarebbe tutelata dal diritto d'autore e non c'entra nulla il diritto d'autore si applica alla creatività cioè a novità e originalità sono due criteri cardine su cui il diritto d'autore si è evoluto in tre secoli adesso se mi mettete dentro anche l'artistico da un lato mi mettono dentro l'artistico dall'altro lato non so se avete notato ogni tanto si parla di opere creative e altri materiali quindi sembra che queste norme si riferiscono anche a ciò che non è creativo quindi le banche dati i documenti tecnici le banche dati non sono creative non tutte alcune non sono creative però penso che lo facciano per inserire quello comunque perché in Europa abbiamo il famoso diritto sui generis che è un diritto che tutela anche le banche dati quando non sono creative però dobbiamo andare avanti veloci perché se no non ce la facciamo allora già le definizioni come vedete la definizione dovrebbe illuminarci e invece ci ha già creato un po' di problemi quali sarebbero i diritti nuovi che sono che andrebbero inseriti nella nostra legge sul diritto d'autore ce li ha già segnalati in realtà una slide della nostra della relatrice precedente questi sono i diritti che abbiamo questo è uno schema che utilizzo per i miei corsi che si trova nel libro quello capire il copyright questi sono ad oggi tutti i diritti considerati nella legge italiana sul diritto d'autore quello che vi segnalo è là in alto a destra l'eco compenso cioè l'eco compenso è una forma di come dire di prelievo indiscriminato per l'utilizzo di opere cioè quando non si riesce a individuare bene che tipo di diritto a che tipo di utilizzo ricondurre un diritto la legge crea un eco compenso si dice che l'autore per quel tipo di utilizzo ha un diritto ad essere compensato equamente che già lì la parola equo solleva una serie beh allora lì c'è la giurisprudenza che un po' ci aiuta però cosa vuol dire che quando c'è attenzione perché questo è un meccanismo che troveremo nelle norme precedenti quando c'è un eco compenso significa che tendenzialmente si fa un accordo tra categorie di non so gli editori gli autori e si fa e si raccoglie un forfè che poi viene ripartito in modo tale che tutti vengano in qualche modo remunerati attraverso questo eco compenso che è sicuramente un meccanismo comodo perché rastrelli e poi dividi il problema è che se poi i meccanismi di remunerazione di divisione di questi utili non funzionano come nel caso italiano eco non è così tanto ok perché vai a finire che dai da mangiare sempre ai soliti e invece ai piccoli che ai piccoli non arriva nulla ed è esattamente il caso della pubblicazione scientifica perché se i miei soldi vanno a finire in un calderone che poi si dividono Baricco e Mogol non mi interessa tanto non sto davvero incentivando la pubblicazione e la creazione di opere scientifiche io che ho fatto la monografia che è uscita a 300 copie comunque questa sarebbe cioè dovremmo andare a inserire una serie di nuovi diritti all'interno di queste colonne quindi l'eco compenso viene molto molto ingrandito ci saranno vari casi che vedremo e poi nuovi diritti che sono questi l'articolo 11 si crea un diritto di utilizzazione economica sulle pubblicazioni giornalistiche in caso di utilizzo digitale l'abbiamo già visto prima l'articolo 12 si crea un diritto connesso a favore degli organizzatori degli eventi sportivi quindi davvero abbiamo creato un diritto che con la creatività non c'entra nulla cioè io sono il titolare sono tendenzialmente l'organizzatore del gran premio o l'organizzatore del super bowl e in quanto organizzatore ho già un diritto che sembra un diritto che si comporta come un diritto d'autore ma non si può chiamare diritto d'autore infatti lo chiamiamo diritto connesso ma non è neanche di colui che mette le telecamere e fa le riprese è di colui che ha le chiavi dello stadio ok che è quello che ti dà l'autorizzazione ad entrare nello stadio e mettere le telecamere succede già in realtà cioè quando tu organizzi un evento sportivo poi fai l'asta dei diritti televisivi quindi la formula 1 se avete notato negli ultimi anni prima si vedeva sulla RAI da un po' di anni non si vede più oppure se ne vedono solo alcuni dei gran premi perché non se lo possono più permettere perché costa troppo e allora è andato a finire su delle reti a pagamento ok e lì che ti vende il diritto di esclusiva alla fonte è la federazione come si chiama della formula 1 ok quindi nella prassi esisteva già adesso hanno creato un diritto diritto a percepire l'articolo 14 è un diritto a percepire un generale ecocompenso eccolo qua a favore di autori artisti interpreti e esecutori per lo sfruttamento online delle loro opere e a essere regolarmente informati cosiddetto obbligo di trasparenza questo è interessante perché in effetti questo forse è un lato positivo perché in alcuni casi gli autori stessi perdono il filo di come siano state utilizzate le loro opere quindi obbligare gli intermediari a fornire le informazioni corrette può essere una buona idea articolo 16 bis questo è bello perché ecco volevo notare questo cioè una direttiva che non è stata ancora approvata formalmente ha già dentro dei bis e dei ter e dei quinquies il che è interessante ecco perché solitamente i bis e i quinquies li inserisci quando hai fatto delle modifiche successive che qua è stata fatta una modifica dell'ultimo momento quando la bozza era già quasi si pensava che fosse già quasi chiusa articolo 16 bis della direttiva introduce un diritto di revoca in caso di mancato sfruttamento dell'opera o in caso di costante non rispetto l'obbligo di trasparenza anche questo secondo me è interessante questi forse sono due diritti che sono davvero a favore degli autori ok e quindi adesso andiamo alle nuove parti la parte invece sulle eccezioni con quel meccanismo quindi le eccezioni sono nuove il meccanismo quello del prevedere l'eccezione è molto meno nuova lo abbiamo già visto ed è figlio di quello che già ci se ne dava il professor Cingheri quando ci ha quando ci ha introdotto che è davvero difficile trovare un equilibrio tra le due esigenze contrastanti cioè la tutela degli utilizzatori dei diritti degli utilizzatori da un lato e dall'altro lato la tutela dei diritti dei titolari che siano gli autori o gli editori o gli organizzatori di eventi e via dicendo e quindi per trovare l'equilibrio preciso si fa l'eccezione poi si crea l'eccezione e l'eccezione e si andrà avanti così finché sulla nostra bilancia non si crea quell'equilibrio che chi fa le leggi ritiene sia corretto tra l'altro tra queste eccezioni alle eccezioni attenzione alcune sono obbligatorie vuol dire che tutti gli stati membri dovranno introdurle altre sono facoltative quindi avremo uno stato che è un legislatore italiano che decide di introdurla e il legislatore austriaco che decide di non introdurla quindi appena superi il confine non sai davvero se hai ancora lo stesso set di diritti quando parliamo di eccezioni vi faccio vedere questo schema che appunto è uno delle mie slide cavallo di battaglia per i miei corsi siamo in quest'ambito qua cioè le eccezioni la regola è che tutto sia tutelato sostanzialmente se non quando un'opera cade nel pubblico dominio noi siamo in quest'ambito qua cioè il libero utilizzo stabilito da una norma di legge cioè l'eccezione al diritto d'autore stabilità da una norma di legge l'altro caso di eccezione sono le licenze libere di cui né la direttiva né oggi noi credo che ne parleremo se non forse parlando di wikipedia cioè wikipedia è tale perché c'è sotto una licenza cioè sono gli autori stessi che stanno consentendo l'utilizzo dell'opera ok non ne parliamo in realtà perché la direttiva si occupa di questo caso qua di creare delle delle eccezioni ex legge arrivo la seconda parte ho pochi minuti ma ve la faccio breve nel senso qua ci sono tante sono slide noiosissime quindi più che altro le ho messe in modo tale che chi poi va a leggersele possa vedere però le facciamo scorrere velocemente cioè quali sarebbero i potenziali effetti in ambito accademico è che ci sono una serie di eccezioni buona parte delle eccezioni previste dalla direttiva sono rivolte al mondo accademico ad esempio la nuova eccezione sul text data mining che è quella prevista dall'articolo 3 ne leggiamo una giusto per vedere come è strutturata ma poi le altre sono più o meno simili gli stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui l'articolo 2 della direttiva del 2001 che è il diritto di riproduzione di opere l'articolo 5 e l'articolo 7 della direttiva 96 che era quella sulla tutela delle banche dati quindi il diritto di riproduzione di banche dati o di estrazione di rimpiego cosiddetto diritto sui generi di banche dati non creative e del diritto articolo 11 paragrafo 1 di questa direttiva cioè il nuovo diritto all'ecocompenso quindi stabiliscono un'eccezione per le riproduzioni e l'estrazione da opere o altro materiale cui gli organismi di ricerca hanno legalmente accesso ed effettuato ai fini dell'estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica da parte di tali organismi quindi questi organismi di ricerca se fanno questo tipo di attività di text e data mining non devono chiedere il permesso ok tornando alla nostra slide qua non devono preoccuparsi di chiedere il permesso titolare perché sono in un'eccezione ok gli stati membri poi continuano l'articolo dispongono che anche gli istituti di istruzione e gli istituti di tutela del patrimonio culturale che abbiamo definito prima che conducono attività di ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 2 possano beneficiare dell'eccezione di cui è al presente articolo in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo ha ripreso un concetto che abbiamo già visto prima quindi non lo ripeto eccezioni simili poi le vediamo in altri casi vedete la nuova eccezione per l'utilizzo di opere in attività didattiche digitali trasfrontaliere e anche qua più o meno i diritti di cui si fa eccezione sono gli stessi vedete le norme sono citate le stesse e dice che deve essere fatta perché ci sia l'eccezione deve essere l'utilizzo digitale di opere o altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico nei limiti di quanto giustificato lo scopo di un commerciale perseguito purché l'utilizzo quindi è una condizione all'eccezione avvenga nei locali di un istituto di istruzione oppure in qualsiasi altro luogo in cui l'attività didattica è svolta sotto la sensabilità dell'istituto di istruzione o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli alunni studenti o al personale docente di tale istituto onde evitare che si faccia passare un convegno aperto al pubblico solamente perché è organizzato presso un'aula di un'università o attraverso una piattaforma che è gestita dall'università per un'attività didattica B sia accompagnato dall'indicazione della fonte compreso il nome dell'autore tranno quando ciò risulti impossibile vabbè questo è un diritto che per più o meno mi sembra abbastanza scontato vedete ecco questo caso di eccezione facoltativa gli stati membri possono prevedere che l'eccezione è adottata e via via non la leggiamo perché se no non ce la facciamo la nuova eccezione è sulla conservazione del patrimonio culturale eccola qua quindi per chi si occupa di biblioteche e di digitalizzazione di manoscritti di documenti dice che non ci si deve preoccupare di chiedere il permesso se si fa che cosa per consentire agli istituti di tutela il patrimonio culturale di realizzazione di copie scusate il patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte in qualsiasi formato di qualsiasi supporto al fine della conservazione di detta opera o altro materiale che è nella misura necessaria e nella misura necessaria a tale conservazione questo è stato aggiunto di recente cioè nell'ultimo giro cioè l'uno bis gli stati membri provvedono a che il materiale derivante da un atto di riproduzione di materiale pubblico dominio non sia soggetto a diritto d'autore o a diritti connessi è quello che ha detto la nostra parlamentare nel primissimo nel primissimo intervento devo chiudere sì 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 purché ok quindi faccio vedere solamente le altre così poi ve le vedete con calma una nuova eccezione sulla diffusione online di opera fuori commercio che è un articolo è probabilmente uno dei più complessi tra te che ho messo solamente l'uno bis che è la parte sull'eccezione e il resto però sarebbe da leggere tutto per capirlo no in realtà ero arrivato giusto ecco cioè leggo velocemente questa qua perché così ho finito l'eccezione sulla diffusione online di opera fuori commercio riguarda che cosa il consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione online copie di opere fuori commercio presenti permanentemente nelle loro raccolte per fini non di lucro purché sia indicato il nome dell'autore di qualsiasi titolare dei diritti e tutti i titolari di diritti possono in qualunque momento opporsi al fatto che le loro opere o altro materiale siano considerati fuori commercio ed escludere l'applicazione dell'eccezione di tali opere è un po' quello che avevo già detto prima cioè bisogna anche cercare di verificare che gli autori proprio siano non siano contrari a questa attività il che secondo me sarà molto difficile da fare perché a volte fai fatica a sapere chi sono i titolari di diritti provate a pensare a un film di un regista ciecoslovacco dove c'è delle musiche originali comunque questa è un po' la situazione come vedete ho lasciato fuori l'articolo 13 e già ho sudato quindi vi ringrazio vi aspetto sui miei canali social per nuovi aggiornamenti grazie a tutti